Buonasera, ben ritrovati. La situazione Covid in Piemonte resta sotto controllo. Contagi e recovery continuano ad aumentare, ma si tratta di un aumento contenuto e nelle ultime 24 ore non si sono registrate particolari criticità, così a Novara come nel resto del Piemonte. Intanto prosegue velocemente la campagna vaccinale e in corso la somministrazione della quarta dose del vaccino agli ultra sessantenni. Nelle scorse settimane era toccato agli ultra ottantenni e alle persone fragili. Ed ora voltiamo pagina, parliamo di sicurezza in rete e di sicurezza nella navigazione web. Venerdì prossimo ne discuteremo nell'argomento della settimana in onda sulla nostra emittente. Che cos'è questa iniziativa e a che cosa serve, soprattutto? L'evento di oggi si inserisce all'interno di un tour nazionale realizzato da Fondazione Carolina in collaborazione con TikTok. L'obiettivo di questo tour è quello di sensibilizzare i genitori e richiamarli alla loro responsabilità educativa. Sappiamo bene che il digitale, che i social fanno parte della quotidianità dei nostri ragazzi, ma ha maggior ragione e per garantire loro di vivere questi social, questo mondo virtuale che non è tanto distante dalla realtà in maniera sicura e felice, occorre sensibilizzare, formare, accompagnare, dire ai genitori che ci sono dei segnali su cui bisogna stare attenti. Questi segnali sono il tempo che si trascorre, le amicizie che si frequentano, l'età da rispettare. Prima dei 14 anni non si potrebbe, secondo GDPR, avere un profilo social. E prima dei 13 anni non si potrebbe avere un profilo su TikTok. Ecco, questo diventa importante e fondamentale dirlo. Cominciamo da lì. Regole semplici, facili, che diano la possibilità ai genitori di far parte di questo mondo, che è un mondo totalizzante per i ragazzi. Ed ora parliamo delle attività del Centro Studi Novarese, progetti e collaborazioni. Amore per i libri e per i giovani, formazione ed educazione, loro sono il presente e voi li coccolate a dovere. Eh sì, li coccoliamo veramente tanto e soprattutto ci siamo resi conto che i ragazzi hanno proprio bisogno di stare insieme. Quindi tutto questo nasce veramente dall'amicizia, dall'amicizia che ho con Ivo, dall'amicizia che ho con Ivana, che hanno permesso tutto questo, perché senza di loro non si avrebbe fatto niente. È inutile girare intorno a tante parole poi dette per niente. Quindi questa cosa veramente mi ha riempito di gioia, ha consolidato ancora queste nostre amicizie e questi nostri credo. E come diceva Ivo giustamente, si tende a criticare i giovani, però i giovani bisogna mettergli alle prove, bisogna dargli anche gli strumenti per poterlo permettere, di dare dei sogni e abbiamo bisogno di questi momenti. Quindi è stato veramente un periodo intenso, bellissimo, stupendo e come ha detto Ivo, magnifico. E poi ribadisco, anche l'esperienza delle borse di studio sono state eccezionali, perché vedere anche la gioia nelle ragazze, vedere come un libro, come un libro di poesia, come la generosità, come diceva Ivana, ha proprio arrotolato tutta questa situazione. È stato qualcosa di inebriante, bello. Un'occasione unica per affrontare nuove sfide e pensare davvero che il bene così si moltiplica all'ennesima potenza. Sì, si moltiplica all'ennesima potenza perché il bene prima è energia e l'energia se è vissuta, se arriva da dentro, una più uno non si sa se fa due, tre, cinque o venti. E poi si manifesta nella realtà, così come le poesie. Prima sono state un'esperienza, poi sono diventate un libro, poi sono diventate una borsa di studio e poi si vedrà. Nel frattempo, come diceva lei, uniscono. C'è bisogno di bellezza, non perché le mie poesie siano belle o meno, ma è uno sguardo, lo sguardo poetico è uno sguardo sulla bellezza, secondo me. E di questo c'è bisogno. Lezioni, progetti, ragazzi a cui insegnare cosa e a cui augurare cosa? Augurare cosa? Che, non lo so, il libro, augurare che innanzitutto legano i libri, augurare che il libro, sono duemila anni, che duemila, deve continuare. Noi ce la mettiamo tutto col professor Ghidelli per stuzzicare anche i giovani. Sicuramente qualche altra iniziativa viene fuori, è valida, anche perché oramai si è creato un ambiente d'amicizia che già c'era, adesso si è rafforzato ancora di più. Come si suol dire? L'unione fa la forza e noi la mettiamo tutta. L'ospedale San Giuliano di Novara e Associazione Serena Ollus insieme contro le malattie neuromuscolari. Sentiamo. È pronta a partire la collaborazione tra l'azienda ospedaliera universitaria di Novara e il centro clinico Nemo di Fondazione Serena Ollus per la realizzazione di un polo di eccellenza e di attrazione in Piemonte per il trattamento delle malattie neuromuscolari come la sclerosi laterale amiotrofica, l'atrofia muscolare spinale e le distrofie muscolari. L'obiettivo è quello di offrire un ambiente confortevole ai malati neuromuscolari e alle loro famiglie, dove trovare un team multidisciplinare che si faccia carico dei bisogni di cura e al tempo stesso creare le condizioni di eccellenza per sviluppare e attuare i trattamenti assistenziali più idoni. Lo staff del centro clinico Nemo Forte dell'esperienza accumulata nei centri di Milano Uniguarda, Arenzano, Roma Policlinico Gemelli, Trento, Napoli Cotugno, Brescia e Ancona sarà costituito da differenti specialisti, fisiatra, neurologo, neuropsichiatra infantile, preumologo, fisioterapisti, psicologi, dietisti e troverà sede nel distaccamento di Viale Pezzadarmi al secondo piano. Nei giorni scorsi lo staff della Fondazione Sirena ha visitato anche alla presenza del sindaco di Novara Alessandro Canelli i locali, esprimendo la propria soddisfazione per la soluzione individuata. Questa collaborazione, affermando in un'altra stampa il direttore generale dell'azienda ospedale universitaria maggiore della carità di Novara Gianfranco Zulian, rappresenta un ulteriore potenziamento dei servizi e delle cure per quel tipo di pazienti che già trovano nel centro sgla dell'ospedale un punto di riferimento di assoluta eccellenza. Ed ora parliamo di un progetto dedicato alla sicurezza delle città, iniziativa di prevenzione contro il terrorismo e contro i rischi degli assembramenti di piazza. È partito nei giorni scorsi un tour piemontese nei vari capoluoghi di provincia dedicato alle polizie locali. Prima tappa, Biella. Sentiamo. Butta giù il bastone, allontanati, girati allontanati. Oggi siamo a Biella per il primo incontro delle mini academy Pactesura. Allora, che cos'è Pactesura? È un grande progetto nato dalla comunità europea in collaborazione con la città di Torino e con Anci Piemonte per portare in tutte le località, in capoluoghi di provincia del Piemonte, un percorso di formazione per le polizie locali. Oggi la polizia locale ha un ruolo che è ben diverso da quello che aveva una volta, perché sono molto più coinvolti nella vita delle città sotto ogni punto di vista e occorre essere sempre più preparati a dare risposte alle nuove esigenze che sempre in misura maggiore si manifestano. È difficile arrivare dappertutto senza un'adeguata formazione. Grazie a Pactesur, grazie all'Europa, grazie alla regione Piemonte che ha fatto in modo che arrivassero dei fondi europei importanti, oggi abbiamo la possibilità di creare un corso di formazione in tutti i coprovi di provincia per la nostra polizia locale e questo è un fatto assolutamente positivo che consentirà di dare risposte migliori ai nostri cittadini. Questo appuntamento è stato fatto di comune accordo con la regione Piemonte, con l'assessore Fabrizio Ricca, assessore alla vigilanza urbana, a seguito, appunto come dicevo, di questo progetto europeo che ha avuto la partecipazione di numerose città europee, fra cui Torino, Madrid, Nizza e quant'altro. Abbiamo pensato come Anci Piemonte, in collaborazione con la regione, di estendere una più breve esperienza di questo progetto rivolto a tutti i vigili, chiamiamoli così, delle città piemontesi, in modo che questa esperienza possa essere veramente utile a tutte le città e anche a volte ai piccoli comuni quando ci sono manifestazioni che comportano un grande afflusso di persone e di visitatori. Ed ora andiamo a Vercelli per parlarvi di una bella iniziativa al Museo Leone. Si chiama La Cultura a Portata di Mamma. Sentiamo. Si intitola La Cultura a Portata di Mamma ed è un'iniziativa bellissima, devo dire, del Museo Leone di Vercelli. In cosa consiste, direttore? È un'iniziativa che oramai è partita più di dieci anni fa, tutti i mesi di luglio, tutti gli anni, mercoledì mattina è diventato un appuntamento fisso. Portiamo in museo mamme con bambini piccoli, 0-3 anni. L'iniziativa poi è aperta anche ad altri parenti, alle nonne, gli zii, papà, a chiunque vuole partecipare per delle mattinate da passare insieme in relax con delle visite mirate, con delle attività. Questa mattina, ad esempio, facciamo yoga. A mercoledì scorso avevamo lavorato con la biblioteca ragazzi del Comune di Vercelli. È un'iniziativa molto bella che riscuote tanto successo e che è stata pluripremiata e fa parte del passaporto culturale della regione Piemonte che viene rilasciato a tutti quei musei che sono family and kids friendly. La signora Valeria è venuta al Museo Leone con due bimbi, il papà e il nonno, tutta la famiglia, insomma. Che significato ha per lei questa iniziativa? È molto importante perché di solito con i bambini è sempre un po' difficoltoso fare queste visite magari nei musei. Invece qua siamo ben accolti, i bambini possono scorrazzare, gridare, giocare e noi nel frattempo ci sbagliamo e quindi ci piace venire qua. Ed ora andiamo a Varallo Sesia dove dopo l'Alpà un gruppo di giovanissimi ha deciso in autonomia di ripulire l'area del Ciringuito. Un bel esperimento che ha dato i suoi risultati. Ti sentiamo. Mattia, 17 anni, è il protagonista di un bel esperimento sociale fatto all'indomani dell'Alpà. Finisce l'Alpà e questo ragazzo insieme ai suoi amici decide. Vediamo quanti si danno da fare per pulire una zona di Varallo e com'è andato? Allora, all'inizio l'idea era quella di partire per le 22, alla fine abbiamo iniziato l'esperimento sociale alle 1 e mezza di notte. Abbiamo portato dei sacchi, dei guanti, abbiamo chiesto di ragazzi tramite le storie Instagram di portare almeno un guanto per poter tirare su bicchieri, piatti vari. In molti ci hanno aiutato, eravamo in tutto, saremmo stati in 15 o 20 alla fine che a mano tiravano su e poi due o tre con i sacchi e abbiamo decisamente ripulito tutta la zona del Ciringuito. E quindi insomma è andata bene, pensi che questo sia il primo di una serie di altre iniziative di questo genere? Sì, assolutamente. Il prossimo, vabbè, un piccolo spoiler, Vercelli sarà un altro esperimento sociale che ancora stiamo ideando. E siete in linea con insomma tutto il movimento giovanile a favore dell'ambiente? Assolutamente, assolutamente sì. Non solo, il prossimo esperimento sociale non sarà propriamente indirizzato sull'ambiente ma sui contatti e i confronti con le persone. Poi adesso quando definiremo tutti i dettagli, potremmo esporli al pubblico. Grande successo per la GX Novara Fashion, i particolari nel servizio. GX Novara Fashion, per la prima volta a Novara, nel cuore della città al broletto, sfila l'alta moda. Soddisfatti gli organizzatori, soddisfatta appunto la presidente di APS Show Team, Magantiana Dervici, organizzatrice e ideatrice di questa bellissima giornata. Sono molto soddisfatta, molto emozionata. Finalmente a Novara abbiamo fatto capire chi siamo, APS Show Team, un'associazione di promozione sociale che si occupa di talenti emergenti e professionisti. Che dire, è stato veramente un grande successo. Hanno sfilato 15 ragazze per 4 stilisti, un grande show finalmente a Novara e grandi anche i truccatori e acconciatori. Gentiana abbiamo visto sfilare a Milano e nelle grandi capitali della moda e finalmente è arrivata a casa. Finalmente a casa. Io devo dire grazie a Novara per avermi accolto tanti anni fa, per avermi adottata. Lo dovevo alla città intera perché è una soddisfazione personale. Dire grazie a tutti. Finalmente si torna a vivere, lo si fa proprio qua a Novara con una bellissima sfilata di moda. Abbiamo visto alta moda, mare e alta moda per la sera. Una moda fresca, giovane che fa pensare all'estate, al divertimento e allo stare insieme. Il tutto si è svolto nella normalità come era prima e questo ci riempie di gioia perché è proprio questa gioia, la vera spinta per poter affrontare il futuro con serenità. Speriamo che vada tutto bene dopo l'estate ma speriamo di rimanere così come siamo e come eravamo. Sempre impegnati per il nostro territorio. Un grazie particolare all'amministrazione comunale tutta che ha patrocinato l'evento e ha creduto fortemente nella voglia di APS il suo team di sdoganare a Novara l'alta moda. Presente all'evento della GX Novara Fashion anche l'amministrazione comunale novarese. Sentiamo. Per la prima volta a Novara GX Novara Fashion. È un grandissimo evento, molto bello. In primis perché finalmente come in tante altre occasioni abbiamo visto ci ritroviamo tutti insieme di persona e poi perché l'amministrazione comunale ha una grande sfida con la moda. Abbiamo iniziato a investire tanto, ci sono già tanti poli pronti, ci sono tanti insediamenti di firme importanti. Poter mettere in piazza, in passerella, questa sfilata di moda in una cornice meravigliosa come quella del broletto per noi è sicuramente una grandissima occasione e siamo felici, orgogliosi di poterli ospitare. Faccio assolutamente i complimenti a tutti, a coloro che hanno organizzato l'evento, alle modelle e i modelli che hanno sfilato. Sicuramente un'ottima iniziativa che va a completare quella che è stata anche la settimana che si è svolta in centro degli Street Games. Per cui Novara ovviamente si arricchisce sempre di più con questi eventi, tutte manifestazioni che non fanno altro che apportare ulteriormente sempre delle opportunità anche per i cittadini che vengono in centro. Sono molto contenta oggi di essere qui, anche in rappresentanza naturalmente del Consiglio Comunale, ma anche per me stessa, insomma una sfilata di moda così importante, così prestigiosa, anche con questo caldo, con questo clima così un po' pesante, ma sicuramente renderà tutto così molto bello e molto fashion questa sfilata che ci aspettavamo da tanto tempo. Era ora che arrivasse una manifestazione del genere perché è giusto che riparta anche il fashion qui a Novara. È veramente un evento che andava fatto proprio in questo momento particolare. Restiamo in tema e ascoltiamo gli stilisti che hanno partecipato all'iniziativa. Ci troviamo al Beroletto insieme a Flora Cappucci, una delle stiliste che ha partecipato alla GX Novara Fashion. Che cosa hai portato in questa passerella così particolare, proprio nel cuore della città? Guarda, stavolta ho portato due collezioni. Una moda mare, perché portiamo anche un po' di mare qui a Novara e l'altra abiti più eleganti, un po' più particolari. Presente è anche uno dei più storici stilisti novaresi, Umberto Perrera. Ho portato cinque abiti da donna e tre da uomo, abiti da sera. Una delle stiliste che ha partecipato alla GX Novara Fashion è Rossella Cavioni. Che cosa abbiamo visto oggi in passerella? Abbiamo visto i sogni che solitamente si realizzano per le future spose e spero di aver fatto sognare le persone che erano presenti con abiti lisci, abiti sempre romantici che non tramonteranno mai e con particolari strascici. Moda estiva, abiti decoltè, scollature, spacchi, abiti leggiadri e di tulle. Tra gli stilisti presenti al GX Novara Fashion non poteva mancare un notissimo stilista Antonio Oliver che ormai collabora da tanti anni con la pièce Show Team. Questa coalizione mi sono inspirato nel Brasile e nella Sicilia perché anche stava organizzando, era in un progetto di un film che dovevo organizzare metà del costume del film con tessuti siciliani. Come aveva già un po' di abiti siciliani pronti, ho mischiato con un po' di tessuti brasiliani che sono arrivati dal Brasile e ho fatto questa coalizione che mi ispira tanto, mi dà tanto piacere di vedere tanti colori, tanta vita e così. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di serata con i nostri programmi.